a pace giovedì anton partita la partita e mi ha ucciso un orecchio passavolta partita la partita cosa si builda su sta roba? ma io vado a casa ma sono tipo cosiddetti a particoli dicono i problemi quello di scarti per ma la colpa di FBS ahhh ahhh siamo due a due Sara eh? eh? eh Sara piglia il fuori in faccia Sara va che non devi prendere il fuori in faccia ma hai ragione vabbè io non gioco al lol da troppo non siamo quella tolleina non ci non giocheranno steri che ci vuole molte molta skill vabbè perché allora ci vuole molta skill eh beh direi da che non c'è non sia gold oh gesù quando siamo nel teamfactor non c'è quella roba non ci vuole ma i pazzi ah ma hanno preso me così zio oooooh o o scusa eh i danni di noi uiii aiuto non ho perso la porta ci sono mia sorella no visto ti sei venditato la squadra di nita scacciata in 3d ma io tipo devo andare a cilino a sospituare ignorante cosa si maxa su sto cosa la cu ok allora sto andando bene la cu poi la la vu d'occhio un po' e poi la pam pam ah 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 cos'è successo oddio ma ci sono delle tazzine che cos'è sta cosa cosa come faccio a fare interagire i tentacoli con me no deve staccare ahahah c'è che domanda ambigo però eh ma qui il porno ci apparece non lo so domande no ma perchè c'è scritto i i tentacoli interagiscono con le sue abilità però io non ho ancora visto il mio tentacolo attaccare ahia ahia ah i tentacoli quando vado a lavorare di fare quella roba lì che pia la gente come palazzo da noi si si questa tipo ok si 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 o ma che non so cosa farà un uomo provo a pigliarla il progetto nata faccio io praticamente la tauti ma la gente a casa perchè stiamo perdendo male se fa tanto male quando becca agente in acuti ti fumi dai posto oddio che coglione guarda questa qui invece perdi tutta la vita ma non ti fa fare più come? quel tentacolo donne tentacoli pro perché diventano ricettacoli quando tu quando tu fai la e a uno a quello scappo oppure i dati di tutta la vita con la e diventa un ricettacolo cioè che dove va va evoca il testo oltre a un minion spawniamo il minion no ok ah è baccati nini adesso vedi tutta la mappa blu vero? chi è che vedi la mappa blu? te non la vedi blu ma non andranno ma siamo seri da poco mangiati quando dobbiamo cosa dobbiamo costare il il foro il foro il foro il foro dopo provo lo skin di anni vent' oh luke si mi ha dato i coglioni che appena mi ammazza quello nel team facebook che mi ammazza dai vai per una paga mia Ah guarda, c'è una Non mi credo, ho scoperto l'altra Il mare è il passaggente Ma quella è una penta qui Dai ma io non ci capisco niente Ma questo è il bello, magari non si deve capire niente Oddio allora Ah quando è così comunque Cioè tipo vedi che adesso Marco ha la cosa Devi distruggere i tentacoli, i tre tentacoli Stanno andando tutti a qui, non ci può superare Ah sì Prendetelo Kira, no? Prendetelo Kira Eeeh Cioè sono viva Ehm Ehm Che sono viva Tirate, tirate il problema Dei puntare solo 15 un po' Ehm Ti spesso Cosa è un petto? Cosa è un petto? Ah eeeh Cosa è un petto? Cosa è un petto? oh ragazzi vai non mi fa niente ah se stai qui nell'area del fuoro quando butti minion ti cura torre basta torre di merda spiegati da lux però lasciateli di cuore ora ci ripontiamo lì prima che però fanno il verde ancora a noi e no lasciamelo domini ci vuole amare il decurso of course ok io devo ammazzare male quel destino perra mia da che tutti vanno ho impazzita no io non so meglio così s***** oh oop ...quand'è che hai fatto il proprio grosso? ...ah, sei ...this ... ... ...isperito ...sì ...o questo un tavolo ...e l'ho ricredito ...ma anche vedo con il tuo cazzo scuro ...celle cose che mette Bardo sono bellissime ...e ragazze di caffè e scolato ...e poi quando ci potenze diventa ancora più bella ...cioè sono qualcosa di spettacolare ...cioè ...oh siamo 9 a 9 eh ...marchmallow ...eh niente ...eccola ...erano ...è un bracato 1 ... ...e' l'hanno ...e' l'ho ...e' l'ho ...olto Sul foro, sul foro Sul foro Ok adesso è il nostro, la turma Questo Sì Sì Buttaci il colore dei fuori Sare uno per poi uccidere l'altro dei fuori Non so Siree io è bello dovevo mettere fuori Oddio ma posso scambiare l'idra titanica con l'idra fumatica gratis? Sì Quale meglio è titanico la fumatica? Sì 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 Guarda il foro che si chiara la torre guarda Vai il foro La torre la torre Sì 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 Sono tutti i nostri tentaticoli Gundrillo Mantrillo Un po' fosse Un po' fosse Un po' per Après Un po' per Un po' per Un po' fosse Un po' per Che abrizzicante amici che fa un sacco di kiwi tipo E' il cattivo del momento Un fuoro Un fuoro Non mi ha grabato Ci sarà dentro Che cancro che è Blitz? Stavo dall'epoca Dai dovete uscire solamente i più quattro pori Vai ci vado ci vado Cos'è? Perché ci vai ci vai? E' però l'ultimo fuoro Siii E' coi che ci vado in là C'è coi che ci vado in là C'è coi che ci vado in là Ah ma abbiamo Ma abbiamo il fuoro grosso Allora Verso la morte Stai andando Marco Mi facevi non morire Prendone la base Mi hanno tirato i chiuditi Questa cosa Mi hanno tirato i chiuditi Questa cosa C'è l'ho Perchè uzi contro la tizia? Ho sbagliato Cos'è questa battaglia? C'è l'ho La OI contro la OI Spero che quelli in la OI fa malissimo Tu o sei tu? Si 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 da vista Chios posso aspettare 40 gol di base Non prendi il tuo cash Posso aspettare 100 gol di base? Morte Oh cacca Guarda qua non recupero vita 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 Sta un progetto La croJe non scholarship Ughhhh Ho bisogno Seatvano Ha voluto Un progetto Buon recupero Mica Dove Ooooooooh Everybody's gonna come back up Ops Guys I am out Io per montare stea questa Si foro, si foro Fizzate così ho la fastiva tante volte e mi refuglio Chi sei tu? Ah.. Lo sai che era max looks ciao Marco i just told you guys to blow war maiko si dombrom brevi lascia inibitor Ah, è sulla torre, vabbè, mi porto bomba Ho avuto il torre, mi portano niente Looks a fall, very, very male Dai, se facciamo ancora prima di andare fuori abbiamo vinto Dai, dai, solo più 9 fuori, dobbiamo trovare di... Madonna, 8 fuori Oh, ma qua c'è il daoi No, scatti fuori Ah, c'è la manca Non le va niente quelle Dai, dai, sei fuori, sei fuori Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Minchia qua No, bard Ah, non aspettavo nient'altro che finisse, non ti dico la tizia Vabbè, PG Lui è stato toccato a mezzo mondo Ho vintato i miei teammate Dai Ho fatto uccidere cara Questa è la mia 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 Questa è la mia